I 5 Stelle sono una forza politica che in Lombardia sostanzialmente non esiste e che, terra civile questa diciamo, ma il punto fondamentale è che questa esperienza politica sceglie di fare tutte le battaglie di queste ore in nome del populismo più becero che è il populismo di chi dice reddito di cittadinanza, sussidi e di chi si collega con le trasmissioni televisive in diretta da Palermo per dire vi racconto le storie di chi prende il reddito di cittadinanza. Noi non accettiamo di essere considerati quelli che non vogliono combattere la povertà, noi diciamo che per combattere la povertà occorre investire in educazione, occorre investire in condizioni di lavoro migliori, occorre investire in sanità e salute pubblica, ma non si può fare di uno strumento, di un sussidio, il totem attorno al quale gestire tutta la comunicazione politica e tutto il voto di scambio clientelare con il quale i Cinque Stelle hanno cercato di ottenere un risultato. Partito Democratico Lombardo, ti vuoi alleare con Costoro? Auguri! Ma noi siamo da un'altra parte!